Le persone non vogliono che cambi, questo qua potrebbe essere interessante da sapere per capire un attimo il motivo del perché poi quando intraprendi un cambiamento, un miglioramento, le persone intorno a te ti danno addosso, le persone non vogliono che cambi perché allora devono cambiare se stessi per gestire la tua nuova persona, ok? Perché tu cambiando te stesso stai indirettamente, cambiare è positivo, tantissimi non lo sanno, vedono il cambiamento come una cosa negativa, cambiamento è meglio, però siccome tu cambiando te stesso stai indirettamente forzando le persone intorno a te, qui teniamo un esempio semplice, dei tuoi amici sfigati al bar, li stai forzando indirettamente anche loro a cambiare per gestire il nuovo te stesso. E siccome le persone non c'avano voglia di niente, resistono al cambiamento, resistono all'essere cambiate, ma com'è giusto che sia, tu non è che stai dicendo allora cambiate anche voi, però indirettamente sì, indirettamente lo stai facendo, cambiando te stesso e migliorando te stesso e quindi tentano di tirarti giù, di tenerti giù insieme a loro nella mediocrità. Stufo di vedere altri ragazzi trattare male le donne e riuscire a scoparsele, mentre tu invece che le tratti bene, vieni rifiutato? Stai per scoprire la formula in 9 passi per avere più successo del ragazzo stronzo che la tratta male, anche se vieni considerato un bravo ragazzo e vieni spesso parcheggiato in zona amicizia. Tutto questo nel videocorso da bravo ragazzo a scopatore seriale, acquistabile in sconto al 65% in meno fino all'8 febbraio, poi aumenterà di prezzo. Clicca sul primo link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Va già saputo in anticipo questa cosa, perché se non la sai in anticipo ti demotivi, poi magari ti demotivi lo stesso, ma almeno sai il perché di queste cose e ci passi attraverso, sapendo che sei sulla strada giusta. Più giudizio ricevi da parte, in questo caso, dei tuoi amici, più giudizio negativo ricevi, più sai che sei sulla strada giusta. L'approccio mentale che devi avere è ci vediamo fra sei mesi, ci vediamo fra un anno, ci vediamo fra due anni. E poi, passano otto anni, ti guardi indietro e dici, cazzo, ho fatto la decisione migliore della mia vita. Parlavo qualche giorno fa con la mia ragazza e dicevo, sai quella è stata la decisione più importante della mia vita? E diceva, è stata approcciare me? E ho detto, no, non è stata quella decisione più importante della mia vita. E' stata il giorno in cui ho digitato su Google come rimorchiare una ragazza su Facebook. Perché da lì poi si è innescato tutto quanto. Il fatto di, appunto, da lì poi ho entrato in gruppo Facebook, ho iniziato a studiarmi a questi argomenti qua, a fare corsi, formarmi, iniziare a uscire, a trovare persone giuste con cui uscire, a riuscire ad approcciare per anni, iniziare ad andare a letto con ragazze, all'inizio poco, poi dopo tantissime. E ho diventato poi anche il mio lavoro, poi indipendentemente, non è che deve diventare il tuo lavoro, ma anche senza che fosse diventato il mio lavoro, già avevo impattato in una maniera enorme sulla mia vita. E poi nel momento in cui poi entri in una relazione, conoscendo come si entra in una relazione di coppia felice, come ci si trova la ragazza giusta, che ti ricordo che è spiegato nel videocorso Per Sempre Insieme, da lì poi ti scegli la compagna di vita giusta, ma tutto quanto partito da quella primissima situazione lì. Quindi, tutto ciò per dire che cosa? Ah sì, per il fatto che le persone si, ti rompono i coglioni, ti tirano giù, non vogliono che cambi, eccetera, ma devi riuscire a fottertene di quello che ti dicono. E la cosa migliore è non esporsi neanche a quel tipo di condizionamento, ok? Quindi semplicemente o non frequentandoli più, o tanto in realtà, oppure semplicemente non condividendo quello che stai facendo, non condividendo i tuoi nuovi obiettivi e cose che stai facendo. Esci tranquillamente ancora con i tuoi amici sfigati, ma senza stare a condividere, a dire, ah, sa che sto uscendo a approcciare ragazzi, per il tanto ti daranno soltanto addosso, ok? Otterrai soltanto disapprovazione. Poi, forse, quando otterrai dei risultati, qualcuno di loro potrebbe convertirsi, interessarsi anche lui, ma non ci sperare, ok? Quindi, è parte della vita, funziona così. E la cosa anche, diciamo, la parte più dolorosa, tra virgolette, è proprio il primo salto, diciamo, il primo cambio di cerchia sociale. Perché tutte volte che passi a un obiettivo, che hai dei nuovi obiettivi, automaticamente cambia anche la cerchia di persone che hai intorno. Puoi provare a tenerteli intorno, ma poco per volta, e tu, a un certo punto, io per i primi, io ho iniziato a approcciare nel 2015, avevo iniziato a interessarmi nel 2014, poi avevo iniziato a approcciare nel 2015, e comunque, fino al 2017, comunque, ancora frequentavo i miei vecchi amici. Ma sempre di meno. Non è che sia stata una cosa volontaria. Perché a un certo punto loro erano al bar a perdere tempo, e io ero un appuntamento con ragazze. Quindi non è che accade in maniera forzata. Poi, se vuoi essere più spartano, è proprio tagliare i rapporti, così, da un giorno all'altro, benissimo. Io lo consiglio anche. E, però, per tanto, accadrà automaticamente e naturalmente. E va bene così. Cioè, non bisogna frequentare, non c'è, non sta scritto da nessuna parte, ti devi portare dietro la stessa persona per tutta quanta vita. Ci sarà quel 1, 2, 3 amici storici che ti porterai dietro per sempre, ma di solito, se la tua cerchia di persone è sempre la stessa, nell'arco di 5, 10, 20 anni, o di più, non è un buon segnale. Vuol dire che non c'è stata evoluzione, perché automaticamente nell'evolverti, nel migliorare, cambia automaticamente la cerchia di persone. E la cosa poi anche, perché in realtà, fare il primo salto dove cambia la tua cerchia di persone iniziale, in realtà, sì, è un po' doloroso inizialmente, è difficile, ma comunque non è così difficile, perché, al fine, capisci, dopo un po' che ti stai staccando da degli sfigati che non concluderanno mai niente nella loro vita. Quando poi, magari, ti passi a un secondo obiettivo, a una seconda cosa, non so, magari ti sei messo a posto con le donne, e devi capire che, se vuoi, non so, passare a un atleta olimpionico, e che ti devi allenare 7 volte a settimana, tutti i giorni, devi avere un coach olimpionico, che cazzo ne so, e molto probabilmente non uscirai più tutti i giorni ad approcciare, o comunque uscirai, non lo so, ma non ti vedrai più così frequentemente con il gruppo delle persone con cui uscivi a approcciare. E poi non capire questa cosa qua, che tutte le volte c'è un cambio del gruppo di persone, più non capisci questa cosa qua, più rimani poi bloccato nello stesso livello, ok? Quindi, io mi ricordo questa cosa qua, quando l'ho capita questa cosa qua, perché, ok, ho fatto il primo step nella vita, ma poi c'è costantemente un cambio di persone, poi dopo ti abituisci, capisci, e va bene così, non essere, diciamo, attaccato in maniera sentimentale a qualunque persona incontri sul tuo percorso, cioè, è naturale che a un certo punto ci saranno interessi diversi, prendere testate diverse, quelle persone che incontri nella vita, ci saranno quelle persone che rimarranno per sempre nella tua vita, ma la maggior parte non è così, anche perché, come ti ho detto, se no è sintomatico il fatto che non c'è evoluzione nella tua vita. Stufo di vedere altri ragazzi trattare male le donne e riuscire a scoparsele, mentre tu invece, che le tratti bene, vieni rifiutato? Stai per scoprire la formula in nove passi per avere più successo del ragazzo stronzo che la tratta male, anche se vieni considerato un bravo ragazzo e vieni spesso parcheggiato in zona amicizia. Tutto questo nel videocorso da bravo ragazzo a scopatore seriale, acquistabile in sconto al 65% in meno fino all'8 febbraio, poi aumenterà di prezzo. Clicca sul primo link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni. Grazie. 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 Grazie.